Ed eccoci sempre in diretta dal Casino Perla, guardate quanta gente, sono salito in alto per farvi vedere quanta gente c'è, la sala è completamente piena, devo dirlo veramente è un successo per questo Stana delle Tigre di seconda edizione, ricordiamoci che in contemporaneo si sta giocando anche l'IPT di Sarremo, che entrambi i due tornei sono in diretta con i blog video live su www.pokeritaliaweb.org, un grosso sforzo anche per noi, quattro inviati, due qui a Stana delle Tigre, due stanno seguendo l'IPT, ormai con tutti questi tornei, anche per noi sì, sta diventando un grosso sforzo essere sempre presenti, ma quando c'è il grande Poker Live, Poker Italia Web non manca mai, e vi ricorda anche l'appuntamento, sempre in diretta per il blog live, e quindi questa volta andremo in Portogallo, a Villa Moura. Ma ora seguiamo sempre il torneo dall'alto, ho voluto farvi vedere quanta gente è presente nella sala, e oggi è il giorno Day 1A, ricordiamo che il torneo terminerà domenica, domani ci sarà il Day 1B, poi il Day 2, e il Final Table domenica, fino al Day 2.